Quante calorie ci sono nelle merendine preferite dai bambini e non solo dai bambini? Sono adatte alla loro età? Sono troppo grasse oppure troppo dolci o troppo salate? Difficile rinunciare alle merendine soprattutto se a richiederle sono i più piccoli? Ma quale scegliere tra le centinaia di proposte per garantirsi un compromesso accettabile tra golosità e salute? Non è facile orientarsi e per questo Altro Consumo ha creato sul suo sito una banca dati con l'identikit nutrizionale di ben 300 merendine, bevande ed altro. Sono allencate per numero di calorie e per il costo. Se si spunta il confronto compaiono i prodotti omologhi di altre marche con tutti i consigli di promossi e bocciati. Noi i consigli non ve ne diamo ma forse è importante leggerli poi alla fine ognuno si farà una propria opinione e deciderà magari con equilibrio tra marca, calorie e costi.